Ieri a Roma al Mise ed oggi non si entra in fabbrica e a rischio l'accredito degli stipendi previsto per lunedì 9 settembre, mentre il mese di luglio è stato corrisposto solo al 70%. Ma c'è di più, la paura più grande è di essere al capolinea, con commesse però in portafoglio. Così i lavoratori della IA di Flumeri riprendono a scioperare, a reclamare i loro diritti e a chiamare in causa governo, regione e istituzioni locali. Neanche la sicurezza che lunedì verranno pagati gli stipendi, come altrettanto non si capisce, lunedì c'è questa riunione del Consiglio di Amministrazione di Industria Italiana Autobus, dove i soci dovrebbero ricapitalizzare, altrimenti si rischia il fallimento. Quindi di fronte a tutte queste emergenze ci aspettavamo un intervento del governo immediato, perché le emergenze vanno gestite, al di là poi di avere i margini per poter rimettere in piedi una nuova società. Ma questa è un'emergenza, i lavoratori sono monoreddito alla canna del gas, perché dopo sette anni di gas integrazione oggi non vedersi accreditato lo stipendio mi sembra veramente il massimo. Il paradosso è che con le commesse acquisite non c'è la possibilità ad oggi, per cause governative, per cause aziendali, di mettere in atto un processo industriale per farsi evadere queste commesse. Rientrato al lavoro in questo periodo? Sì, io sono rientrato al lavoro quest'anno ad aprile. Che situazioni hai trovato? Allora, ho trovato una situazione di stallo di quattro anni fa, diciamo. In questo momento si stanno facendo solo le casse lastrate del Pullman. Siamo fermi perché non ci sono le condizioni per quanto riguarda i materiali e quant'altro. In quanto c'è un contratto di sviluppo che non è andato avanti, si è fermata la prima tranche del finanziamento di 5 milioni, non sono state erogate le altre tranche, quindi siamo fermi. Anche l'anzienda è ferma e si cerca di capire un poco dove muoversi. Perciò ieri siamo arrivati alla capolinea, diciamo. Non si può più aspettare perché la cassa integrazione sta per terminare, lo stabilimento non è industrializzato, c'è una piccola linea di montaggio, ma è arranciata, insomma, nel senso di fare piccole cose, non si riesce a fare una produzione industriale. Non si riesce a fare piccole cose, non si riesce a fare piccole cose,